ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di simone workout un video un po diverso dal solito come vedete dalla location ci troviamo al porto di civita vecchia per un video di pesca sono gasatissimo ragazzi ho dormito praticamente niente sono in totale after sono le 6 di mattina e siamo qui con dei professionisti della pesca l'obiettivo di oggi è quello di prendere il tono rosso dico bene siamo qui con lorenzo un professionista ovviamente del settore oggi vi porteremo appunto con noi quindi io prima di partire vi dico una cosa intanto stoppate il video in questo momento e scrivete nei commenti secondo voi se riusciremo a prendere qualcosa oppure no e poi regà ovviamente like a secca commentate e iscrivetevi al canale anche perché vi stiamo portando contenuti assurdi stiamo qui in barca adesso ci andremo a fare un giro tutto quanto e il buon lorenzo mi stava dicendo anche una cosa interessante che oltre ai tonni è possibile trovare pesci spada e anche squali mi hai detto possono capitare cioè che tu abbocca lo squalo non è il nostro obiettivo perché no e vabbè certo il mio sì vi dico la verità perché beccando squaletto sarebbe sarebbe divertente quindi regà partiamo a secca siamo carichi oh ci siamo scordati pure nelli che sta laggiù no vabbè pure rimane la stiamo se volete qualcosa da mangiare raga io vi dico stanotte non ho dormito niente però non c'ho sonno cioè sono arrivato qua gasatissimo oggi mi voglio proprio divertire a prescindere da come andrà la situazione mi voglio divertire questo è l'obiettivo già ho avuto alcune esperienze in sardegna da sub quando ero molto molto piccolo però la pesca così non l'ho mai fatta a me piace il mare piace a mangiare pesce mi piace vedere la gente che pesca ragazzi ci siamo praticamente arrivati nel luogo nel luogo esatto nel punto x nel punto x appunto ci abbiamo messo un po più di tempo perché ho perso strada quanto 18 volte sono scelto fuori strada circa 18 volte però siamo arrivati a destinazione guidando io Simone workout alla guida per la prima volta comunque ci abbiamo messo tanto perché abbiamo beccato tutti i semacoli rossi ovvero sì c'è stato un po di traffico rega e niente adesso ci ancoriamo che dici un po di traffico rega e niente adesso ci hanno un po di traffico rega e niente di Seguiteci su Instagram, ma poi in generale io su YouTube siamo e vi ringrazio di questo oltre 400.000, fantastico, vi amo, lo voglio bene, però su Instagram siamo a poco più 200.000, c'è un quarto, quindi vi invito, anche perché ci sarà un premio appena arriveremo a 150.000 su Instagram, ci sarà un premio importante per uno di voi, quindi ve lo dico qui, Instagram Simone Workout e ovviamente trovate anche l'Instagram di tutti i ragazzi tranne Melli in descrizione. Adesso la parte più complicata di questo tipo di pesca è capire la pastura quanto scende in profondità e a che velocità scende. Una volta capito quello iniziamo a calare le canne e possiamo pescare. Quante sono in totale le canne? Io ne vorrei mettere tre, in più ci sta questa qua che serve sempre per pasturare, però ci fa pasturare in profondità. dobbiamo sistemare tutto. Una canna a media quanto costa? Eh, dipende, ci stanno varie marche. C'è tipo da? Parti dai 200 euro per arrivare anche ai 1000, 1500, più il molinello. Più il molinello. 1500 te la vendono già col tonno appeso? Sì, con più di un tonno. Ma questo è il nostro innesco. Ok. Un bel sarticciotto. Lo manierei io. Iniziamo a calare la prima canna. Ok. Noi decidiamo a calzista metterla. Poi ma se combatti come funziona? E ora piano piano intanto cerchiamo di capire lo stanno, lo stanno, lo stanno, lo stanno. Poi caliamo i miei miei, poi arrivati al nodo, mettiamo un piombo e là vediamo la camera che scende in giù. Dove? Ma come sono le donne? Sono potenti a tirare? Eh sì, è uno dei pesci più forti che c'è. Sarà un bel combattimento. Un bel combattimento. E parte sarà un bel combattimento. Vedi, guarda che poi, secondo me oggi tornava a casa con un gabbiano. Sono talmente tanti. Sarebbe più facile. Guarda che si stanno a bagnare la pastura nostra. Mortarci loro. Azzuzzi! Lavoro da tre anni. Quindi lo faceva tuo padre, tuo nonno. Pescatore subacqueo. Eh beh, quello che dicevo prima, mi piacerebbe riprovarlo. Quello che è bello, sì. Bellissimo. E poi tuo padre invece faceva quello che fai adesso. Mio padre sia da terra che dalla barca. Quindi adesso non c'è più niente sotto la barca? Quelli corrono, sono veloci? Eh, in questo momento no, non abbiamo assolutamente niente. Però una cosa importante è riuscire a fare entrare i tonni in pastura. Una volta che i tonni stanno in pastura dobbiamo essere bravi a tenerli sotto. Sotto la barca al top. Sotto la barca. Li vediamo sulle con scandaglio e dobbiamo essere bravi per fargli mangiare l'esca nostra. Poi un'altra domanda che ti volevo fare, Loma, la pesca non è una... Io quando andavo a pesca con mio papà hai la ghietti sportivi, niente di emozionante. Però dico non è uno sport, è un'attività silenziosa, cioè dove ti fa silenzio. Ma guarda, col tonno no. In realtà più rumore gli fai ad esempio con il motore, con la pompa dell'acqua, più alzi la voce più il tonno viene, allora chiamiamolo. Ti metti là, batti i piedi, gli potrebbe piacere. Ragazzi siamo qui ad aspettare. Questo è un momento dove bisogna appazientare. Stare lì, sperare, sperare. Comunque stavo facendo un'osservazione prima riguardo Instagram proprio. Ieri ho messo le mie prime storie tipo all'una e due, no? E il panico di gente, proprio il panico. Oggi ho messo alle sei di mattina un decimo di meno, un ventesimo delle persone. No, però davvero, tutti a dormire ovviamente, non c'era nessuno. Denti, cernie, può capitare qualche maricciola, tuonni. Questi qua sono i pesci principalmente palamite, questi pesci qua. Adesso la pesca è chiusa, infatti bisogna dirlo che se oggi prendiamo un tonno dobbiamo rilasciarlo, dobbiamo liberarlo perché la pesca purtroppo è stata chiusa al 4 agosto. Se incrociando il dito succede qualcosa ci pensi te o ci pensi te come hai fatto? Come hai fatto? Tocca prendere la cintura che sta davanti, è quello che c'è scritto Grillox. Te la metto? Beppe, quella è la Beppe. Ok, vabbè, ma la metti? Beppe Grillox. Ma la metti e poi? Poi ti metto la canna sulla cintura e ti spiego come hai fatto. Praticamente il discorso è questo qua, tu avrai la canna così sulla cintura. Oh, ma ti ha preso, mi sa? Devi mettere la mano sinistra sul mulinello e quella a destra recuperi. Quando senti che tira lui, che prende tanto filo, non devi fare niente, lo lascia andare. Quando invece senti che sta fermo, ti viene incontro, recuperi. Recuperi. È un lavoro che non devi fare, non devi sforzare la schiena ma devi sforzare le gambe. Ok. Tu quindi quando c'hai la cintura pieghi le gambe e recuperi, pieghi le gambe e recuperi. Basta. Nelly tipo non può fare solo una cosa? Nelly non so come sta messa a gambe perché... Eh, lascia aperto. Ce n'ho due ma... Il gambe ce l'ha però. Non è utile. Se fai così neanche fatichi. Se invece inizi a sforzare la schiena... Rischi che ormai rifatichi un po'. Aveva io un po' e lo sgancio? Sì, capitano. Eh, ma infatti Riesa è il capitano, dove potremmo chiamare il capitano. È vero? Eccolo! Beh, andiamo! Eh, dai! Dai, dai! Ragazzi, dicono che qui è un po' pesantino. Me ne occupo io, ragazzi. Siamo pronti a sconfiggere il tonno. Raga, qui è una guerra incredibile. Io mi aspettavo tipo una volta la boccava, due minuti. Lo tiravi su. Ma mi sa che è pesantino questo. Basta. Mamma mia, si vede, eh? Si vede? È enorme. No, raga. No, raga, pazzesco. Pazzesco, raga. Raga, pazzesco. Anche qui, raga. Raga, rucinante. Ragazzi, adesso abbiamo preso questa bestia di, non lo so, quanti chili secondo te sarà? Eh, dai 60 chili. Tra i 50 e i 60 chili, dai. È bello ignorante. E mi sto tenendo abbastanza. Adesso lo liberiamo e lo lasciamo campare, ok? Vai. Oh, bella. Siamo andati con te. 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 Siamo andati con te, eh? Alla grande, l'esperienza magnifica come il primo pesce è subito un bestione. Che dici? No, un parere ovviamente te, sincero, pure che è negativo. Come me lo so comportato? Ti sei comportato bene. Però ovviamente, essendo il primo pesce, che stanno dei vari aspetti che si possono... Sì, ho sbagliato un po' le cose. Ma tipo, ho girato troppo, eh? No, no, no. È che magari io pure ti ho chiuso poco la prizione per la paura di perdere il pesce. Perché magari stiamo facendo un video, è importante di più portare il risultato che aspettare. Cioè, meglio metterci un po' di più. Però il risultato l'abbiamo portato a casa, quindi... Però, oh, vi dico la verità, fisicamente a livello... Poi ce l'avevo la cinta non messa proprio al top. Quello un pochetto mi sbilanciava. Quello un po' mi sbilanciava. Anche perché Nelly, io ho visto l'occhio del terrore su Nelly. Io sono un po' preoccupato con Nelly. No, no, ragazzi. Perché una certa le sbilanci no. Io adesso prendo lo squalo bianco. Solo quello, se no. È una promessa, è una promessa. Dai, mo' vediamo quello che riusciamo a prendere. Io so' fiducioso, regà. Mo' so' partito bello carissimo. Ma con il nostro l'abbiamo fatto. Sì, sì. Intanto il nostro ce lo siamo portati a casa. Il risultato è, infatti, regà, vi invito. Se volete altri video del genere, contenuti sulla pesca, robe varie, regà, supportate al cannone perché vi portiamo altre cose, altri contenuti. Ragazzi, ormai è passata circa una mezz'oretta dal tonno che abbiamo preso e adesso abbiamo messo un po' di storie Instagram che abbiamo fatto, robe varie, ci siamo divertiti. Vi dico la verità, lì per lì non mi sono espresso troppo sia per via della concentrazione che avevo, cioè non volevo veramente farmelo scappare e anche un po' per l'emozione, nel senso che, cioè è stato veramente una figata assurda, cioè è stato troppo emozionante anche vedere quella bestia che ti arriva così, cioè regà è enorme, è una roba pazzesca. Regà, niente, qua ci stanno 20 tonni qua sotto da mezz'ora e non vogliono mangiare, non so che è successo, non c'hanno fame, che dici, Nelly? Eh, oh, io ho il problema deduto. Stiamo a provare deduto? Stiamo a provare deduto, speriamo che arriverà il momento giusto, io ho pure messo un po' di salsa barbecue, perché a me piace. Vi hai messo a dentro. Ecco, no! La salsa barbecue! Ce la vedremo, ce la vedremo! Ragazzi, adesso facciamo fare al pro. Compratene quelle due gagne, allora, regà? E cominciamo quelle due gagne, dove mi raccomando. Ragazzi, ci siamo. Adesso c'è la guerra con il secondo tonno della giornata. Mamma mia, che bello! Sto commentato, sto carico e soprattutto sto pure un po' rilassato, perché stavolta non sarò io ad occuparmene. E oggi vedrete la differenza tra una pippa, un dilettante, un'allezza, 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 un'allezza. Guarda, di qua, di capire tutto quanto. Ma vogliamo, credo. Eccolo, eccolo, mostra sul vicino, vedete? Mostra, mostra. Rallenta adesso. Occhio fermo. Certo, Nelly, però, porco sì, ho la guida. Nelly, che ho fatto? Hai fatto un po' di danni, Nelly. Boh, scendolo, vado a piacere i miei. Vai, tu, fatti. Nelly, adesso ti fa il coraggioso o lo vai a cercare? Poi dobbiamo fare la fotocopertina, come fanno con Nelly al quincello? Cioè, quindi è colpa mia. No, non è colpa di nessuno, dai. È andata così. Un po' di responsabilità me la prendo, per carità di Dio. Però stavo cercando solo di girare la parte opposta del pesce. Quello poi è andato sotto l'erica. Va bene, tu Dio. Io non ce l'ho rimasto male, Nelly. Nelly, per il mese prossimo ricominciamo a parlare. A volte si vince. A volte si vince, a volte si perde, ragazzi. Purtroppo questo tono ci è andato male. Lascia la mare un bocca. Eh sì, eh sì. Peccato, peccato. Mi dispiace. Dobbiamo un attimo riprenderci da questa sconfitta, ma torneremo vittoriosi, ragazzi. Me lo sento. Me lo sento. Da questa sconfitta diventeremo ancora più forti e impareremo ancora di più. 0, 6, 6. Che stagli, eh? Terzo tono, ragazzi. Terzo tono, ragazzi. Dai, dai, il riscatto di Nelly. Io stavo tutto bilassato. Mamma mia, vai, no. Questo? Ma dovresti essere, non c'è, non c'è. Stop. Ragazzi, altra sconfitta. Cavolo, questa non ci volevo. Però qua, che dobbiamo fare? Questa è sfortuna, oh. Qua non ci potevamo fare niente. Qua ne è colpa proprio, veramente, di nessuno proprio. Ma davvero. Ha rotto, è ufficiale? Ha rotto così. Ebbè? Ho slamato, ho rotto. Mi tira più, no? No, no, ma è perso, è perso. Ma sta che ghibella. Ma sta che ghibella. Tre, era bello. Eh sì. Eravamo partiti forti. Tre toni hanno abboccato, uno preso. Manca il gusto alle combatte un po', eh. Davvero. Niente, ragazzi. Eh, che amarezza, mamma mia. Eh sì. Un po' di delusione. Per l'amato, guardi, che ti dice male. Sto liberato. Non è rimasto da te. Che ve lo devo dire, ragazzi. Non è rimasto da così. Io direi un applauso. Sì. Ci siamo fatti. Ci siamo fatti. Tre toni abboccati. Uno preso, uno di cinque metri, ormai mancavano. Sì. E quest'altro, vabbè, questo ci ha detto trovo male. Regà, stare così. È di un relax pazzesco. Ti metti qua. Col sole sparato. La barca che si muove un po'. Il mare. Questa è una pacchia, regà. È incredibile. Troppo bello. Troppo bello. Qua ci dormi proprio. Ti metti qua piazzato, ci dormi. Ieri sole. Che vuoi di più? Mamma mia. Bello, bello. Soprattutto dopo che hai pescato. Che sei soddisfatto, sei contento. Ti rilassi. Che vedo. Che vedo. Che vedo. Raga, io in tutto questo stavo dormendo, tutto rilassato, mi ero rassegnato totalmente, stavo a manna via. Dico un po', stavo a manna via. Questa è un altro grosso. Ragazzi miei, questa è la nostra quarta guerra. Quarto tonno, quarta guerra. Dai. Raga, ci sono tipo 10 tonni qua sotto, non potete capire che roba. Questa è qua? Cioè è pazzesco, siamo circondati. Stiamo sulla parca, ok? Grazie. 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 Oh, regà, altra bestia, quattro su quattro, due assegno, due mancati. Spettacolo puro. Mamma che sono troppo contento. Ragazzi questa è un'altra soddisfazione, adesso lo salutiamo, come ci dice anche la legge in questo periodo e fai buon viaggio. Dai eh. Ci vediamo al prossimo anno, dai. Dai, è bello. Ragazzi che dirvi, dormire un'ora stanotte, alzarsi alle quattro praticamente ne è valsa la pena. È stata un'esperienza bellissima che consiglio veramente a tutti. Io vi dico già da adesso che tornerò a fare nuove esperienze di questo genere perché è una figata assurda. Poi ci siamo tolti anche un sacco di soddisfazioni, cioè quattro strike abbiamo fatto, quattro torni e anche belli cagliardi, due siamo riusciti poi a portarli su. In una giornata. E quindi sono contentissimo. Io ti dico una cosa, questa la posso dire. Cioè ho portato bene a livello di pesca. Beh è stata veramente una bella giornata. La prima volta, prima esperienza così subito a cannone. Sì sì sì. Mi piace, mi piace. Bello soddisfacente. Certo, c'è da dire che la pesca non è sempre così. No esatto. Però oggi è stata buona. Bella bella. Siamo divertiti. E se vuoi dire qualcosa riguardo anche le nostre prestazioni insomma come prima esperienza… Io penso che come prima esperienza sia te alla canna che Nelli alla pastura promossi. Promossi. Dai dai. Ma se abbiamo fatto. Possiamo uscire da soli qui. Possiamo molto. Sfira. No io non vengo. Andate voi. Vi lascio la barca. Cos'è il famoso? Comunque il bello è che in una mattinata abbiamo provato tante sensazioni Perché la delusione di aver perso quelli La rabbia, la felicità di aver preso delle bestie disumane Che non ho mai visto No, proprio nei vedi dal vivo Cioè è pazzesco Perché chi non è abituato Mi dici queste cose enormi Sono più grossi della barca Pensano più di noi Ma davvero Cioè Ma le c'è C'erano certe bestie assurde Quindi niente Regà Ovviamente non mi resta che ringraziarvi per la visione Se vi è piaciuto questo video Se volete appunto altri video di questo genere Supportate il video a cannone Quindi like Commenti Iscrizioni al canale Soprattutto poi Trovate tutti i nostri social qui sotto in descrizione E niente Lascio la parola a te che sei il capitano Ti rimango a disposizione Quando vorrete tornare Vogliamo fare un'altra giornata in mare così Con grande piacere Con grande piacere Anche perché sei veramente un grande professionista E si è visto da tantissime cose Cioè Se stavano delle volte Con Cioè Pariva che era un po' sì E lui si trovava Le strategie Per riuscire comunque a A prendere Come il sorriso che ci ha fatto adesso alla fine Che ha detto che il carburante è finito È vero Regà Adesso lo tiriamo fuori i remi Per sicurezza la sto a fare mo' La chiusura Così Dico Ce l'ho Poi al limite Per sì Così cosa Eh Io ce l'ho No Infatti Tiriamo fuori i remi Adesso si torna a casa Adesso si nuota Adesso si nuota No Andate raga Vabbè noi intanto proviamo Accendiamo e partiamo Ragazzi io vi saluto Alla prossima Taglie Toss Taglie 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 Taglie